Sospensione step a tre luci. Nella confezione troverete tre vetri e la montatura. La prima cosa da fare è svitare i pomelli lasciando i gommini vicino. Passiamo al montaggio dei vetri. Per montare i vetri basta poggiare ogni vetro vicino alla montatura facendolo combaciare con i buchi e dopo avvitare i pomellini che abbiamo lasciato in precedenza con i gommini. Facendo solo con le mani non occorre stringere più di tanto. Grazie a tutti. Una volta completato l'assemblaggio dei vetri la sospensione è pronta per essere installata al soffitto. L'ultima cosa da fare prima di installarla al soffitto la sospensione va regolata in altezza che si fa attraverso il coprifilo tramite le vitine che ci sono. Basta allentarle un pochettino e premerle e il filo sale scende. Se avete acquistato la versione con cristalli oltre agli elementi elencati in precedenza troverete anche quattro strisce di cristallo di cui sono una più lunga e tre più corte. Vanno montate dopo l'installazione al soffitto della sospensione partendo dalla striscia più lunga che va giusto al centro in basso e poi le restanti tre intorno. Grazie. Grazie. Grazie.